Dopo l'approvazione della mozione consigliare la replica dell'ente parco, il consigliere comunale capogruppo, uniti per la città Pasquale Spataro, autore della mozione, insiste per la revoca della convenzione per i parcheggi comunali nella Valle dei Templi. L'intervista. La direzione dell'ente parco Valle dei Templi si è rimessa alla volontà del Comune di Agrigento nel merito dell'eventuale decisione che lo stesso Comune di Agrigento intenderà adottare a seguito della mozione di Pasquale Spataro in consiglio comunale e approvata per la revoca dell'affidamento in convenzione dei parcheggi comunali a Porta Quinta e a Sant'Anna. Guardi, io credo che la volontà del Consiglio Comunale è sovrana, per cui una volta approvata la mozione da parte dell'organo di indirizzo e vigilanza, ora la palla passa all'amministrazione. L'amministrazione ovviamente di fronte ad una mozione deve darne esecuzione, deve darne esecuzione attraverso gli atti gestionali che sono di propria competenza. Per cui una volta approvata la relativa mozione la mia attività continua. Continua e si rivolge al sindaco e all'amministrazione, per cui invito di dare attuazione e esecuzione alla relativa delibera e nei confronti anche del segretario del Comune di Agrigento. Il segretario del Comune di Agrigento, che è l'organo principe sotto il profilo amministrativo, deve attivarsi affinché la mozione venga trasmessa agli uffici competenti e affinché ne diano la relativa esecuzione. Ovviamente il segretario deve anche attivarsi in un altro senso, deve attivarsi nel senso che la mozione va eseguita anche sotto il profilo patologico. Dalla discussione è emerso chiaramente che ci sono stati dei danni a carico del Comune, che un parcheggio quale Cugnovela è stato restituito al Comune in condizioni disastrose. E per cui è ovvio che si deve attivare la macchina amministrativa sul piano del risarcimento dei danni, nei confronti di chi è stato responsabile per lo stato in cui è stato restituito il parcheggio di Cugnovela. Per cui la mia attività, ora da una fase di approvazione da parte del Consiglio, passa alla fase di attuazione. Per cui io, insieme a tutti gli altri consiglieri che ne vorranno fare parte, faremo un'apposita nota nei confronti del segretario e nei confronti dell'amministrazione. Affinché diano esecuzione a questa delibera e affinché attivano tutte le procedure amministrative per attivare la procedura di condensioso nei confronti di quell'ente che ha gestito il parco di Cugnovela in quella maniera e che ha cagionato evidentemente un danno a carico delle casse comunali.